Questi dieci anni di vini senza solfiti, che strada hanno fatto? Probabilmente hanno aperto un mondo abbastanza importante da un lato, dall'altro hanno creato anche un po' di confusione. Nel senso che non è facile associare un vino completamente naturale a un vino senza solfiti, non è facile parlare di un vino naturale con un vino artigianale. C'è ancora una poca preparazione su questo mondo qua, c'è ancora poca informazione e chi dovrebbe divulgare purtroppo magari non è preparato neanche a poter divulgare queste cose. Le aziende che lavorano in maniera molto artigianale, molto piccola, facendo veramente un lavoro vero e proprio quotidiano, con mani e piedi, non hanno neanche la forza di comunicare perché purtroppo sono abbastanza piccole e la loro giornata la passano a lavorare in cantina. Quindi è un modo in cui purtroppo non si riesce a dare una comunicazione per poter far capire sempre di più l'importanza di questo mondo o almeno la conoscenza di questo mondo qui, che bene o male deve essere per forza conosciuto. Poi uno farà una scelta, lo bevo o non lo bevo, lo bevo tradizionale, lo bevo in maniera senza solfiti o naturale, però se non conosci non fai neanche una scelta.